Ciao ragazzi, io sono Aurora e tutta è Ludo Dica Ragazzi, come potete vedere, qui abbiamo due bellissime maniglie Questa è la mia Esatto, dice di Cenerentra, invece la mia è tutta grigia nera Vabbè, comunque, tralasciando questo, oggi ragazzi si parte per GANDALLA E oggi è il compleanno della nostra Ludo Quanti anni compi, Ludo? Oh, ti stai facendo grande E voi unicornini state vedendo crescere la nostra Lulù Com'è bello Noi, come ogni anno, stiamo andando a festeggiare il compleanno di Lulù a Gardaland Esatto Perché Lulù sceglie sempre questo tipo di festeggiamento Perché impazzisce per Gardaland Insomma, cosa ti regalerà prezzemolo? E pure tu, mamma, eh, me li fai vedere? Sì, anche noi ti abbiamo fatto dei regalini, non ti preoccupare E anche a te un piccolo regalino, proprio piccolino Sì, un piccolo piccolino Ragazzi, perché non c'è stato mai a Gardaland? Oggi vi porteremo a vedere tutto quanto L'albergo Il parco Erore, la sorpresa Sì, sì Vabbè, ma tanto non sveliamo niente Vi porteremo a vedere tutto così Anche chi abita lontano da qui Perché noi siamo vicini a Gardaland Può vedere Gardaland attraverso i nostri video Ovvio Allora, ragazzi Prima Andiamo a festeggiare il mio compleanno Due E poi Quando ci vediamo andiamo sulla giostra Facciamo il compleanno a casa E andiamo ancora a fare Sì, tu già stai pensando a lunedì Ma aspetta, aspetta, non correre Allora, come prima cosa Oggi vi faremo vedere il nostro viaggio verso Gardaland Poi, questa sera Vi faremo vedere La festa di compleanno di Lulu Con prezzemola Scarteremo insieme a voi tutti i regalini E il giorno dopo andremo a Gardaland Sulle giostre Andiamo sul brucco Sì Sul rapato Io no, grazie Io non c'è Faremo anche un video dedicato Solo per le giostre adrenaliniche E indovinate chi le deve fare La sottoscritta Sì, tu papà Perché io proprio non posso Ragazzi, praticamente Noi abbiamo comprato una telecamera Da mettere sulla fronte Così per farvi vedere La sensazione di stare sulle giostre spaventose Sì, sulle montagne russe Con l'esattezza Allora Aspetta, aspetta Ehm Appunto per questa telecamerina Noi ci dobbiamo mettere in prima fila Perché sennò se tu ti metti dietro Non voi unicornini Non vedete nulla Quindi in prima fila ci dobbiamo mettere Sì Quindi sarà ancora più spaventoso Ma appunto C'è anche una giostra che fa così E poi va giù Ma tu sei pronta a fare questo sacrificio Per i nostri unicornini? Sì Per far provare ai nostri unicornini Il brivido delle montagne russe? Ovvio Allora Ma io non ci posso No tu e te Ludo ci siamo belle beate A mangiare una bella crepe Che ne dici? Ma guardate Voi due Una bella granita Ah sì? Voi due non la scamperete molto facilmente Perché voi Farete il bruco Forse Forse Dai su ragazze Ma preparate le valigie Che ci stanno aspettando all'hotel Allora ragazzi Io E Ludo Fai poche chiacchiere Allora Io Ma quale giuccio? Per il resto Ecco qui Qui ci sono gli abiti Guardate che bel fiocco Ma non svelare niente E questo è di Auri Bene Va bene Dai dai su Preparate le valigie Dov'è la tua valigia? Vai Ludo Dove sono i miei panni? Questi sono i tuoi panni Questi? Sì Mettili bene Non far cadere tutto Questo? Sì Vai Anch'io devo preparare la mia valigia Sì certo Sì e ti devi pure muovere Perché stiamo facendo tardi Mamma mia Vi ricordo che in albergo Ci dobbiamo lavare Ci dobbiamo vestire Truccare Improfumare Ci dobbiamo preparare per la serata No? Ragazzi prepariamo la valigia Allora Direi di mettere per prima cosa Il mio bellissimo scrub No no Metti i primi vestiti Guarda Ludo com'è brava Ha già finito Perfetto Prendi tutto Uno Vabbè io prendo la mia Io prendo il mio pigiamino Le mie mutandine Sì ho preso i miei panni Ludo Brava Lulù Io prendo il mio pigiamino E il mio Ci sei di un mutandino Ma il mio? Sì sì metti tutto dentro Ok Ludo stai preparando il beauty? Sì Dai dai presto I codini Il braccialetto Questo Ludo dai Sì la Questo La molletta Scusate questi calzini di chi sono qui? Miei Vuoi rimanere senza calzini? Ecco E basta Vai Le spazzole Come ci pettiniamo? Questa è mia E questa è mia Guardate La mia Sì dai dai Presto Oddio Gli spazzolini Presto Ragazzi Abbiamo fatto un po' di Tilancio Allora Quale cose Sì ma non far vedere queste cose Dai Sì Abbiamo messo I dentifrici Sì i pettini Metti Metti tutto Metti tutto dentro Anche i pettini Ok Hai chiuso Ludo? No Brava Ludo Vai Su Su Ok Vai 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 Ma che hai fatto? Aspetta Ludo Ma non l'hai chiusa bene Aspetta Mamma Ludo Ma l'hai chiusa bene Stanno cascando tutti i vestiti Andiamo Dove vai? Aspettatemi Ludo Sei emozionata? Sì Oggi sei un anno più grande Hai compiuto cinque anni oggi Ti stai facendo grande grande Però sei sempre piccola piccola Con quei dentoni a sanna Su Su Svelte Carichiamo la macchina Ludo Aspetta Ti aiuta papi Vai Aurora Macchina caricata Vai Auri Pronte ragazze? Super Pronte Pronte Luli Ragazzi Sarà un viaggio No Di 20 minuti Dai No po' Che è nessuno Dai dai su Andiamo Siete pronte? Sì Andiamo 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 Ecco Garden Stiamo arrivando Sì Ragazzi si intravede l'albergo Andiamo a fare il check in ragazzi Su 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 Camminare Guardate ragazzi che buon l'albergo Che c'è qui a Gardala Ludo Fa' attenzione Dai dai Signorine Presto Vino Pettacolo Andate Ludo ce la fai? Ce la facciamo Lulù Già più C'è il prezzemolo Su Su ragazze Su 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 ragazze Ma che ci vuole? Ce la facciamo? Venite un attimo qui Ludo Sei pronta per entrare? Mamma Di Matteo Eh c'è il prezzemolo Entrate Che meraviglia Guardate qui cosa c'è Ludo Hai visto Ludo? Ci sono tutti i personaggi Guardate qui che meraviglia Guardate che spettacolo Wow Ve lo ricordate? Aspetta che devo fare subito una foto Ecco la mamma Su su Dai la scheda A Ludo Che dobbiamo entrare in camera E' una valigia Ludo Ludo la valigia La rimaniamo qui La tua valigia Oddio Avete preso le schede Per aprire la stanza? Sì Ragazzi Lì c'è anche un negozietto Dopo andremo a vedere Andiamo andiamo Guardate che belle finestre Che meraviglia Devo portare io Ludo Ok ci sono Mamma Ti ricordi che una volta c'era il trono? Sì magari lo mettono stasera Lì è il trono Sì Lì prepareranno il compleanno di Ludo Guardami amore Ludo Dai ci vogliamo andare a vestire Che la serata sta iniziando Ludo Ludo vedi se non perdere le chiavi Se no rimaniamo fuori Aspetta Mi faccio prima una foto a te Sorrivi Ok aspetta Aspetta E' anche una foto con tutti gli amici Wow sei bellissima Ludo Dai dai Wow Ragazzi è bellissimo Guardate Ludovica come si cammina Oddio Oddio Ludo 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 Lulù si sta avviando In camera Perché dobbiamo iniziare i preparativi Che bella questa fontana No 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 non mi bagnate Andiamo Ludo Andiamo Ludo dai Questo è proprio un albergo da principessa Guardatemi Aspetta Mamma Secondo piano Secondo piano ragazze Ok Schiacciamo il secondo Vai Ok 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 Oddio Ragazzi Ragazzi Mamma mia Guardate 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 Ragazzi La cassa segreta No No Che meraviglia Manno Guarda Qui puoi fare Uno Che bello Uno Aspetta Uno così Uno così Uno così Che spettacolo Ludo Allora 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 Fammi vedere Ludo Guarda Cosa mi vuoi far vedere Che c'è Ludo Il bagno Ma wow Il bagno Che bel bagno Vediamo l'armadio La cassa La cassa La cassa Cosa c'è qui la cassaforte Guarda Oh Ragazze Ma cosa sarà questa cassaforte Vediamo Cosa nasconde Ma non è che c'è un cassaforte Vediamo Vediamo Belle principesse No Dove stai Ah bella principessa Accetta la scommessa Che bella che sei Lulù Mamma Ragazze Dopo dobbiamo capire cosa nasconde questa cassaforte Sì Però adesso ci dobbiamo Però adesso ci dobbiamo vestire velocemente Perché è tardi Aspetta Qual è il vostro letto Aspetta No No Vediamo qua Volete dormire qui voi Anzi Non lo sappiamo Nano è qua voi vicino alla tenda Che bella Quante tenda Che bella tenda Meravigliosa Wow E questo specchio Ludo Specchio specchio delle mie brame Chi è la più bella del reame Io Io Ragazze Eh Ma avete notato questo pavimento C'è anche una bacchetta Che meravigliosa Che meraviglia Che meraviglia Pure i bicchieri Che meravigliosa Quella chi è la principessa aurora Questa Si chiama proprio come me Aspettate Ora vi metto come questa lei Si chiama proprio come te Così Così è messa Guarda E ragazzi Pure qua c'è la principessa aurora Si Ludo vuoi trovare la bellissima esperienza? Chi ti le scarpe e vedrai Si Brava Ludo Brava Ludo Brava Ludi Ma di me dormiamo con le tende Così Oh oh Guarda Ludo Prova a dormire Buonanotte Ok Ragazzi Boom Ragazzi Qui c'è una cassaforte Io vedo tutti i gioielli disegnati qui Vabbè vabbè Allora ragazzi Chi è? Chi è? Papà Oddio non possiamo aprire la cassaforte Non è il momento Ah Ludovica Che ne dici se diamo il via ai preparativi? Vuoi diventare una principessa in men che non si dica? Si Una principessa proprio adatta a questo trono? Si E andiamo Via Ludovica Iniziamo con la trasformazione Sei pronta? Si Vai Uno Due Tre Ma wow Mamma mia Ludo ma sei tutta unicornosa che bella che sei Uno Passiamo alle scarpe Ok Uno Due Tre Ma wow Ludo sei bellissimo amore Che bella che sei Passiamo al trucco e al parrucco Andiamo Andiamo È rocco Sì Ragazzi vediamo l'acqua com'è È fresca? Sì È serra Dai sciacquati un po' il viso che adesso passiamo al trucco Sì 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 Bello 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 Finito Dove è l'acqua mano? Lì? Dove è? Su 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 Ah Facciamo i capelli Ok Principessina Sì Dopo per vedere i regali Eccola qui Lulù Si sta trasformando in una principessa Lulù Guardatela che bella Wow che bella che sei amore mio Sei bellissima fammi vedere girati Wow che bella principessa Una collanina la vuoi? Wow che splendore che sei Ok Passiamo al profumo Vediamo a te Auri Eccomi Wow che carina che sei Com'è carino questo vestito Anche per Auri capelli fatti Siamo pronte Andiamo 1 2 2 Pronte principesse? Prendiamo la carta Vai Vendo Andiamo su su che la cena sta per iniziare Lulù Vai Lulù Vai Lulù Vai Lulù Sei emozionata Lulù? No Non sei emozionata Lulù? Come si è emozionata Lulù? Come si è emozionata Lulù? Non sei emozionata Lulù? Come si è iniziare Qual è il tuo tavolo, Ludo? Ecco il nostro tavolo. Mamma, vi stricali? Perché? Mamma, è il uomo di pacco. No, Ludo, non è il uomo. Buon compleanno. Ludovico! Compri cinque anni? Quindi già... Già, già, già. Sei bellissima. Già sanno tutto. Ancora, guarda quella Gioff. Già, ora? Tadadà! Tincorono Elsa! No, lasciala! Vieni, prezzemolo, guarda che abbiamo di qua, invece. Abbiamo una principessa. Vieni, Daniela. Vediamo che è qui, quando tu stai vicino alla festeggiatura. Oh, c'è prezzemolo qui! Perfetto, ma sei pronta? Sì. Quanti anni ti compri tu, Ludo? Sentiamo, sentiamo? Cinque anni. Cinque prezzi, ma è importante questo compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ludovica, tanti auguri a te! Brava, che meraviglia festeggiare qui insieme a prezzemolo, non è che ogni anno si festeggia con prezzemolo. Ludo, sei contenta, vero? Ma che fa prezzemolo? Guarda prezzemolo, è proprio vicino a te. Ludo, che fa prezzemolo? È una principessa, è una principessa, prezzemolo. Dimmi, dimmi, dobbiamo... Oh! Oh! Oh, che mi dina davanti alla principessa Ludovica! C'è una sorpresa per Ludo! Ma secondo me non ce n'è una sola di sorpresa. Ah! Più di una, guarda un po' sotto questo meraviglioso tavolo che cosa c'è. Oh, ma guarda cosa c'è! Guarda un po'! Oh, Ludo! Aspetta, aspetta! Ma questo ce l'ha fatto prezzemolo! No! Ma questo è un regalino di prezzemolo, Ludo! Aspetta, 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 aspetta! Così, bravissima, eccola! Ah, Ludo! Io sono curiosa, eh! Sì, sì, io sono curiosa di vedere che cosa gli hai portato alla nostra Ludovica. Vediamo, vediamo! Wow! Quanti colori! È un puzzle! Mi piacciono troppi cose! È un puzzle a orologio! Ludo! Ma, Ludovica, ma hai visto che cosa c'è sopra? Tutti i personaggi di Gardaland! Che bello! Sono anche pezzemolo! Un bello prezzemolo, diciamo! Non è finita qui, ci sono altri regalini! Questa sera è una grande festa! Allora, Ludo, apri! Cos'è, Ludo? Ludo, tu cosa volevi? Guarda, con l'emozione! Attento che fai a me, cane! Ma è vero? È vero! È vero! Ma quante sorprese! Vediamo! Ludo, stavo levi! Aspetta che cade un ruolo! Tira lo piano! Tira lo piano! Però, adesso che hai il telefono nuovo... Wow! Però, prezzemolo, devi lasciargli il telefono! Ma il carico! Eh sì! Ma il carico! È scarico, lo dobbiamo caricare! Ti piace, Ludo? Ludovica, lo scambia il numero di telefono adesso con prezzemolo? Così ti potete chiamare quando volete! È vero? Giusto? E' vero! 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 Ok, perfetto! Ciao, prezzemolo! Grazie! Ciao! Prezzi, vieni! Andiamo perché abbiamo altri bimbi! Vieni con me! Ciao! Ma il tuo scatto scatto scatto! Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta! No, questo è di Auri! Vabbè, sono meno stessi! Auri, questi sono tuoi! Ti piacciono? Sono miei! Dai, Ludo, hai pescato un regalino di Auri! Dai, Ludo, 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 sta tu! Che cos'è? Vediamo! 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 Dei libri! Wow! No! Gira, guarda quanto mi piace! No! Sì, non è dei... Dei libri messi! Ti piace, Ludo? Ok, voglio aprire il prossimo! Vabbè, metti il lì! Questo è il tavolino dei regali! Che abbiamo? Quale abbiamo? Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Solo, solo, solo! Vieni, guarda! Scarta, scarta! Scarta la carta! La bomba da bagno, la bomba da bagno, la bomba da bagno, grazie, ok, vai, vediamo, vediamo questo qua, vuole il fiocco, ok, ti levo il fiocco, ah no, strappa, strappa, aspetta, io ormai sono quella tipo di fiocchi, Non ce la faccio, io sono ancora stupefatta del telefono, mamma, però eh, almeno, c'è nel 2004 anni, gli regali un telefono nuovo, il primo telefono l'ho avuto a 10 anni, dai, Auri, scusami la mano, e guarda tu che c'hai, eh sì, ma tu, oh, cosa ho visto, cosa ho visto, cosa ho visto, un'altra bomba da bagno, un'altra, un'altra bomba da bagno, E' quella vicina, vediamo, girala, che carina, Gliudo ti arriva a fare, è bella coca cola, ragazzi, Gliudo, l'apriamo o no questa torta? No, come, vai, 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 aspetta, ti aiuto, vieni, un fiocco, usiamo il fiocchettino ormai, lo sappiamo, vai, Ludo, che cos'è? Che cos'è? Un'altra casa, vediamo, che cosa ho visto, ma che bella, fammi vedere, una tazzona, che carina, vediamo, 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 Il fiocchettino è il fiocchettino è il mio fiocchettino, cos'è? Cos'è? Cosa abbiamo qui? Ok, prego madame, un fiocchettino, guarda qua, guarda qua, guarda qua, no, vediamo, ci sono tutti i glit, Hai visto che ci sono tutti i glitter dentro, Ludo? Guarda, su, su, dai, che carini questi calcini, hai visto, ci hanno, guarda, guarda, fammi vedere, ma sono degli unicornini, sono degli unicornini, questi li metterai quando c'è in bagno L'ultimo regalino, vai, Ludo, vediamo cos'è questo regalino Tanti ragazzi, mi vado a rubare il telefono No, volevo vedere cosa c'era lì, cioè Stai al tuo posto, cara Cos'è, dai, Ludo, apri Cos'è? Unghie, no Sono unghie di mimmi Gira, fammi vedere Che belle, queste unghie tutte glitterate No, 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 no Non sono di mudon Vediamo, facciamo il resto conto di tutti i regalini che hai ricevuto Allora, no, sono miei perché sono miei, allora Una bomba, un'altra bomba, il cellulare, le unghie finte, questo te l'ha regalato prezzemolo, i cazzini, degli unicorni, il pettinino, un bel libro, in realtà ne sono due, uno di qua e uno di qua, e poi la tazza, ma io voglio vedere meglio questo telefonino. Ok, quindi? Ludo, lo vedo un po' male in mani, tu lo vedete? Può anche cadere e si fraccia tutto. Mettilo qua, mettilo qua, mettilo qua. Mamma, ma c'è la cover! Eh sì, eh, esce anche la cover da questo telefono. Cioè, è pure blu. È vero, è bellissimo. Che bella cover! Sì, sì, cara, però tu la scheda, visto che sei piccolina, non esageriamo, non la puoi avere. Ma no, qui scarica solo i suoi giochini, Lulù. Così finalmente non mi prenderà mai più il mio telefono. Eh sì. Eh, che figa! Vai, vai, metti, 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 inserisci, inserisci. Lo sai che su questa cover puoi anche attaccare degli adesivi? Ah, ah. Mamma, ma è che figuissima! Cioè, pure le cuffie! Anche le cuffie sono uscite. Oh mio Dio! Cioè, è uscito un telefono completo di Ludo, praticamente. Auri, metti giù le mani dal telefono di Ludo. No, 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 no! Pronto? Sono... Sono tua sorella, come va la tua vita? Tutto bene, tutto bene, grazie. E tu come va? Sì, sì, tutto bene, tu? Tutto bene. Oh, guarda un uccello! No, no, no. No, mamma! La la la! Ma il telefono dove sta? Ah no, peccato, si è perso. No, non è vero, sono dietro. Io? Eh, guarda, controlla dietro. No, ce l'hai davanti. Davanti non c'è. Visto. Ma è un uomo, ma non è chiesto. Guarda, tolgo una mano. Tolgo l'altra mano. E... E... Tolgo tutte e due. Sì, va bene, dai. Ma si è acceso! Si è acceso! E' fico! E' fico! E' fico! E' fico! E' fico! E' fico! Auri, c'è anche un regalino per te, in realtà. Happy! Perché è... Happy birthday? Eh, perché... Non so. Mmm, com'è questa torta? Buona? Cosa sono? Vediamoli. Dato che a te piacciono gli orecchini pendenti, guarda che carini questi. Oddio! Quindi hai ricevuto questi e questi. Hai visto che carini? Quali ti piacciono di più? Non lo so. C'è anche un altro regalino per te. Ancora? Sì. Sì. Auri. Vediamo, vediamo. Non hai fatto una forza. Vediamo, vediamo, cos'è? Oh, che bella borsetta! Lo sai che la volevo! Eh sì! Lo sai che questa si mette anche a tracolla? Come a tracolla? C'è una tracolla dentro. Ah, guarda che carino, quanto è bellina questa borsetta! Vediamola? Che carina! Troppo carina! Che bellina! Vediamo dentro com'è. Troppo, troppo. Ti piace? Troppo, troppo, troppo bellina! Sì, sì! Nudo! C'è un ragazzo, ora puoi giocare con il suo telefono! Puoi fare un sacco di foto, puoi fare! Puoi andare su YouTube... Vabbè, voglio scrivere... No, vabbè, io sciocco qua solo. Eccoci arrivati al ristorante! Eccoci! Avete fame? Molto! Festeggiata! Cosa stai pensando? Cosa stai guardando? Sto guardando la volta che non ti ho fatto tutto. Sì, ma vogliamo sapere, questa sera tu cosa prendi da mangiare? La pizza margherita, la pizza margherita. La pizza margherita. Tu apri? Non lo so, ora vedrò un po' il menù, non lo so. Ragazze, questo ristorante è bellissimo, guardate qui. Davvero! Guardate i tavoli violini. Questo è il ristorante di... Tutankhamo. Tutankhamo. E pensate, io Tutankhamo l'ho studiato in arte. Allora io, fammi vedere che voglio! Cosa prendi tu, principessa? Allora... Pensa margherita. Lulina, ti è arrivato l'antipasto del piccolo esploratore. Allora, togliamolo! No, dai morsetti. Senti? E io non voglio bagnare. Anche ad Auri è arrivato l'antipasto del piccolo esploratore. Invece a me questo. E a Papi questo. Cicci! Diamo il via alla cena, ragazze! Com'è questa mozzarellina, Luli? Com'è Auri questo antipasto? Buono! Dopo abbiamo ordinato una bella pizzona, perché noi siamo amanti delle pizze. Qui c'erano tante cose buone da mangiare, ma noi scegliamo sempre le pizze. E qui c'erano buone da mangiare, ma noi scegliamo sempre le pizze. Ludo, ma chi è Ludo? Mi sono Ludo. Ma forse Ludo è Tutankamon. Ecco, arrivate le pizze! Allora, io lo voglio pescare con la colchetta, quindi... La tua pizze è arrivata già, Ludo? La mia no! La tua no, Auri! Ah sì, eccola! Eccola! Sì, grazie! Facciamola un po' di pizze, quindi... Scotta! Che pizze hai preso? Margherita costana e piccante. Ma diavola! Sì! Come te, praticamente! Ma io sono un angelo, mamma! Ludo, stai soffiando? Hai dato il primo morsetto? Buona! È buona? Soffia, soffia, soffia! Com'è? Vuoto 10! Anche a me! Vuoto 10! Anche a me? Soffia, soffia! Soffia, soffia! Ragazzi, questo è l'ingresso del ristorante in cui abbiamo mangiato, guardate! Quello è il ristorante e questo è l'ingresso del ristorante in cui siamo stati. Andiamo su! Madonna! Andiamo su, andiamo a festeggiare, Lulù! Ludo, hai freddo? Sì, ho freddo le gambe! Mi sembri proprio una principessa questa sera! È fredda le gambe! È freddo, è freddo, è freddo! Corri! Ludo, andiamo al negozio di prezzemolo! Andiamo! Wow! Quante belle cose! Allora, io voglio il peluche, allora... Sì, non avevamo dubbi! Iniziamo con il peluche! Peluche! Vai! Oh, ragazzi! Guardate queste matitine! Che carine, sì, ma vediamo se ci sono dei trucchi! Io questo, io questo! Mamma mia, vuoi comprare questo? Eh, mo' vediamo, dai! Ok! Qua, le creme, qualcosa? Ludo, hai visto quante cose belle che ci sono qui? Sì! Dei peluche! Sì, ci sono anche le corrage! Sì, noi quella ce l'abbiamo già! Va bene, dai! Su, su, andiamo! Le pulse dei prezzemolo! A festeggiare, dai! Andiamo! Un, due! Un, due! A festeggiare? Mami, tovaglioli per il mio complesso! Non sono tovaglioli! È un diario! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vediamo il bagno mamma in bagno aspetta completiamo prima questa stanza vedi qualche altra principessa aurora Ludo hai visto un'altra principessa qui in bagno no ragazzi siete sicure sui dipinti no 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 quindi manca solamente due se ne sono aspetta manigli armati allora quindi due poi guarda il dipinto che raffigura il castello quello quante sono le farfalle riesci a vederle insomma l'orologio degli scorgi sulla torre del castello e ora arriva il bello una Ludo conta una due le farfalle Ludo le farfalle due sono due guarda il dipinto che raffigura quante sono le farfalle due riesci a vedere insomma l'orologio degli scorgi sulla torre del castello somma ecco l'orologio ma non ci vedo cosa dell'orologio aspetta che non ci vedo niente ecco l'orologio mi devo togliere aspetta Ludo che mi tolgo più qui segna le dodici le dodici allora è qua l'orologio le dodici le dodici quindi dodici più due fa quattordici ok quindi dobbiamo scrivere uno e quattro sì uno e quattro vediamo se si apre no perché non si apre no abbiamo sbagliato qualcosa non ci vediamo se io non ci vediamo se Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.